Sono Filippo Galli di cognome e insieme a Edgardo Zanoli e a Domenico Gualtieri facciamo parte dell'area metodologica, voi vi chiederete cosa sarà quest'area metodologica non ve la sto a spiegare perché sarebbe troppo lungo quello che noi cerchiamo di fare è dare una mano a tutti i vostri allenatori, allenatrici e tutti coloro che insomma sono con voi per potervi far crescere dal punto di vista alcistico e non solo, e quindi essere da supporto, quindi collaboreremo con loro cercheremo di darvi tutte le opportunità possibili per la vostra crescita avete questa opportunità di fare questi giorni insieme per conoscervi per giocare a calcio, per divertirvi insieme credo che questo sia un bell'inizio, avete anche il Coleman del Parma e mi piace sottolineare come la società davvero, in particolare il presidente Krauss dia grande importanza al settore femminile quindi lo vogliamo costruire insieme, insieme a voi anche se siete piccole, siete giovani però è un punto di partenza so che magari nel mondo del calcio femminile abbiamo sentito tante volte, anche qui a Parma ma vogliamo fare, vogliamo di qua e di là però ecco, davvero c'è la voglia di ripartire, di far bene e voi ragazze siete così giovani ma siete per noi importanti d'accordo? quindi divertitevi innanzitutto insieme alle vostre allenatrici ok? grazie 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 a voi quanto dura il viaggio, lo sapete? 40 minuti 40 minuti? un filo di più dai